Siamo con il signor Cavalli che gestisce una rinomata catena di negozi in tutta la Svizzera. Buongiorno signor Cavalli, ci racconti come è organizzato questo negozio? L'organizzazione 1H Clean ha dei principi importanti, vale dire produrre il servizio a basso costo perché per poter produrre a bassi costi bisogna naturalmente avere delle attrezzature e continuare ovviamente a reinvestire. Ci sono due manichini camicie nel suo negozio, quindi lei mi conferma che il servizio camicia è trainante in questo momento? Certo, il servizio camicia è diventato un servizio molto importante per la lavanderia. Abbiamo anche fatto uno studio per cercare di incrementare ancora di più toccando direttamente la donna di casa e cioè dimostrare alla donna di casa che fare il lavaggio e la stiratura della camicia in casa spende almeno il doppio. E da qui abbiamo avuto un successo sensibile, tale che infatti abbiamo dovuto installare un secondo manichino. Questo tipo di manichino che noi vediamo in coppia qui sono dei manichini costruiti con un concetto di poter fare una alta produzione, la qualità eccellente senza dover pretendere che l'operatore sia uno specialista. Con due manichini ora riusciamo a fare un servizio veloce come è il principio della 1H Clean. E per i capi lavati con il sistema wet cleaning? Ecco, per questi capi naturalmente l'aiuto di una stiratura che può essere dato da un manichino, un manichino tensionato, il Form Plus per esempio, è un manichino che risolve anche questo problema. Come è risolto il problema dei capi spalle e dei pantaloni? Allora, per i pantaloni ad esempio è relativamente facile perché i pantaloni uno è uguale all'altro e quindi si può fare una buona produzione soprattutto con l'aiuto del topper e con la pressa universale. Mentre invece per i capi spalla la cosa è diversa. cambia un po' perché purtroppo un abito da donna, una giacca, un giuppetto, uno è diverso dall'altro e quindi la produzione non è mai possibile creare un numero di pezzi prodotti. È soddisfatto di aver scelto prodotti Pony? Beh, certamente sì perché i prodotti Pony li usiamo ormai da decenni, ma se noi abbiamo continuato a usare macchine Pony è perché ogni volta che acquistavamo una macchina nuova trovavamo sempre una risposta positiva.